Ciao, mi nome è Giovanna, presento la mia amica Angelita. Ella tiene il pelo negro e è largo, è delgata, tiene gli occhi marrones e è alta. Mi nome è Angelita, ora presento la mia amica Giovanna. Ella è alta, tiene il pelo rubio oscuro, tiene gli garafas rocchi e gli occhi marrones e è delicata. Ora abbiamo terminato. Hola, io sono Maria e Anna, ora vamo a descrivere e cominciamo. Hola, io sono Anna e ti presento a mia amica Maria. Ella tiene il pelo largo e castaño, grandi oggos negros. Ella è alta e linda, è intelligente, è molto buona e è sempre disponibile. Ella è molto generosa, è la mia amica migliore. Hola, io sono Maria e io descrivo Anna, il migliore amico. Anna tiene 10 anni, pronto 11. Ella è mediana statura, miglata e molto buona. Anna tiene gli occhi grandi, un nariz piccino e il labiato serosato. Su cabello è marrone, corto e quasi sempre suelto. Le gusta l'azur, il salato, la vestimenta deportiva. Ella è molto amabile con la gente, anche con me. Hola!